Un funerale in piena regola, con tanto di ferretro e corteo, è stato celebrato questa mattina a Chieti dagli studenti della Facoltà di Medicina dell'Università d'Annunzio per ribadire un secco no alla laurea pseudoabilitante. Oggi a gran voce noi studenti di medicina, i rappresentanti di medicina eletti nei vari organi, chiediamo a gran voce che il Ministro si pronunci in merito e ci sia un decreto che preveda veramente una laurea abilitante, che quindi ci consenta di esercitare la professione all'atto del conseguimento della laurea, come accade in tanti altri paesi europei, in Francia piuttosto che in Grecia o in Spagna. Ecco, ricordiamo questo decreto del Ministero non vi soddisfa? No, non ci soddisfa, pone numerose criticità, soprattutto per gli studenti che dovranno a breve laurearsi, gli studenti del quinto e del sesto anno. Con un gioco delle tre carti, i tre mesi di tirocinio che consistono nei mesi di tirocinio della parte pratica dell'abilitazione sono stati inseriti nel percorso di studio, ma a tutti gli effetti dopo la laurea noi dobbiamo svolgere un esame di Stato che prevede delle nuove modalità, delle modalità che potrebbero far sì che si possa realizzare un nuovo imbuto formativo, e già ne abbiamo troppi nel nostro percorso sia di studio che nel nostro percorso post lauream. Gli studenti universitari chiedono dunque, oltre una laurea che sia veramente abilitante, un aumento delle borse di studio per le scuole di specializzazione. Andrea Vitale, i motivi alla base di questa manifestazione di protesta? Il motivo è assolutamente chiaro, è una laurea che non è assolutamente abilitante, e soprattutto la protesta nei confronti sia del discusso e assolutamente iniquo decreto fedeli del maggio dell'anno scorso, e anche contro il silenzio dell'attuale esecutivo che non sta dando direttive in merito al vecchio decreto, quindi sostanzialmente sta paralizzando una platea di circa 60-70 mila studenti in tutta Italia, in tutto il territorio nazionale, e noi chiediamo delle risposte. Che cosa vi attendete al termine di queste manifestazioni che, lo ricordiamo, si stanno tenendo un po' in tutto il paese? Sì, è una mobilitazione che si svolge non solo all'interno dell'annunzio, ma a livello nazionale, e chiediamo delle risposte perché dall'insegnamento del nuovo ministro Bussetti non ci sono state risposte a tutte le criticità sollevate da noi studenti, quindi delle risposte, chiarezza, perché manca chiarezza. Grazie.